Buonasera, sono Natascia e siamo su www.radioprato.net e stasera stiamo per intervistare il nostro Fabrizio Pinsauti, buonasera a tutti, ciao Natascia Buonasera, e quindi Fabrizio, tu avrai in scena adesso domenica uno spettacolo teatrale, giusto? Sì, mettiamo in scena 900 di Alessandro Baricco è sempre una cosa meravigliosa per me metterlo in scena anche se abbiamo già fatto tante repliche qui a Firenze con grandissima gioia il teatro sarà pieno e quindi si rinnova questa magia di questa favola che non finisce mai di stupire né me e da quello che poi mi viene testimoniato né gli spettatori è una favola che comunque parla al cuore di tutti senza tempo direi e senza anche luogo Certo, è una favola che continua ma diciamo tu ti sei approcciato al teatro molto tardi, giusto? Sì, anche se poi nella vita è tutto relativo però sì, non ho iniziato come avrei voluto probabilmente a 20 anni o anche prima ho iniziato a 40 e più anni ho scoperto questa passione ed è un modo per me nuovo per conoscermi anche Perfetto, e quindi il teatro diciamo che ti ha cambiato completamente la vita? Me l'ha riempita più che cambiata mi ha dato un'occasione per essere ancora più assetato di vita perché poi alla fine quello che a me interessa nel mio lavoro non è raccontare più o meno bene un personaggio ma raccontare me stesso ovviamente attraverso delle vite che non sono le mie Ecco, perfetto e qual è diciamo il film collegato a questo romanzo che è uscito ed ha fatto un grandissimo successo? Il film collegato a Novecento è La leggenda del pianista sull'oceano di Tornatore credo che sia uno dei film girato in gran parte in Italia, Cinecittà con il budget più alto perché fu ricostruito il Virginian nei minimi particolari insomma dal punto di vista della scenografia è stato un investimento incredibile con ottimi risultati evidentemente un film di tre ore basato su una storia di alla fine 60-70 pagine comunque su un monologo Certo, e quindi appunto su questo ti potrei anche chiedere qual è l'insidia per un attore che si nasconde dietro uno spettacolo da solo quindi un monologo? è quella di dover catturare lo spettatore di catturare il pubblico fin dall'inizio, fin dalle prime battute e poi non lasciarlo più perché comunque... Certo, ovviamente devi essere capace di intrattenere, di tenere viva l'attenzione emozionando di volta in volta, giusto? Io non uso tecniche particolari tra l'altro perché lavoro molto con la mia di emozione quindi se riesco evidentemente il testo ha una sua importanza se riesco appunto a catturarlo ad interessarlo a fargli amare la storia attraverso la mia emozione il mio modo di raccontare la mia anima probabilmente poi dopo è più facile portarlo fino in fondo Benissimo Sì, infatti ho letto che hai proprio anche scelto le musiche adatte da mettere nei vari spezzoni appunto del romanzo Sì, ritengo che il teatro sia fatto della voce dell'attore della figura dell'attore delle luci, delle musiche sia proprio uno spettacolo dove bisogna tenere presente tutti i sensi le musiche in un monologo aiutano tantissimo l'attore ma anche lo spettatore le musiche evocano evocano dei ricordi evocano dei momenti e quindi sì ho scelto evidentemente delle musiche che accompagnano la storia con un tipo di melodia di... Sono ancora più felice di venire domenica a vedere questo spettacolo guarda Sono felice che tu ci sia che ci siano appunto tantissime persone Certo, certo la prima volta che ci siamo incontrati sono rimasta diciamo un po' estasiata dal fatto che tu dici che Novecento è un romanzo che non ha mai finito di dire quel che ha da dire che cosa volevi intendere con questa tua affermazione? Intendo che è una storia che non lascia che non ci saluta con delle risposte ma anzi apre tante domande domande alle quali si può rispondere in tanti modi perché è veramente soggettivo la vita di ognuno di noi ha un percorso è dettata da tante scelte che ci troviamo a fare e non ci sono scelte secondo me sbagliate o giuste sempre in assoluto Novecento è un uomo che ha dovuto fare delle scelte ad esempio io come attore non mi rivedo totalmente nelle sue discelte ma non per questo non lo amo perché anzi lo abbraccerei ancora di più proprio perché è diverso da me certo e invece come ultima domanda che ti vorrei fare ti sei anche dato al cinema e questa cosa ti sta dando comunque grandi soddisfazioni giusto? Sì rispetto al teatro non devo essere io a dirlo è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa però evidentemente anche lì è una forma che mi è stata data per poter raccontare di me in particolare ci sono stati dei film attraverso i quali ho ottenuto anche dei riconoscimenti come attore ma al di là di quello sono proprio le storie che abbiamo raccontato che secondo me e secondo il regista col quale ho lavorato avevano dei contenuti da raccontare per cui sì la soddisfazione è proprio quella di vedere sotto una forma diversa una parte di me una parte insomma un pezzo di storia poi anche appunto la bravura di un attore questo sapersi calare nei panni di quello che viene richiesto e saperli interpretare di volta in volta ovviamente non sta a me a dirlo quindi non starò qui a dirti sì sono bravo eccetera eccetera comunque anzi io poi ho anche difficoltà a rivedermi credo sia una questione di tantissimi poi a rivedersi nello schermo insomma non si piacciono mai io sono uno di quelli ecco sei uno di quelli benissimo allora qui per Radio Prato è tutto grazie Fabrizio grazie a te Natascia ci vediamo domenica per il tuo spettacolo non vedo l'ora bene grazie arrivederci arrivederci